HTC Legend migliora ancora quella che è la frizione del telefono e delle possibilità del telefono e non solo colpo. Vediamo come è facile fare con un PC2Zoom la visione di tutte le schermate di HTC Sense e non solo colpo d'occhio per poter avere sotto controllo qualsiasi tipo di attività con il proprio telefono. Notiamo anche la velocità di questo telefono che ora non ha più alcun tipo di attitudanza grazie a un processore interno di 600 MHz, uno schermo da 3-2 pollici, uno schermo AMOLED capacitivo, immediatamente reattivo e facilmente consultabile. Vediamo che il telefono non ha veramente minimi di lag. È un telefono la cui caratteristica è soprattutto molto 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 bello. È un telefono che è un oggetto di design, è stato creato da un interblocco di metallo pressofuso e non c'è una cover, o un fronte o un retro, ma c'è semplicemente questa parte che si solleva per la batteria e per la sim. Questo è il nuovo HTC Design. La fascia di pezzo è 399449. Il telefono si potrà già acquistarlo da aprile.